Come avete vissuto voi proprio corpo docente e voi animatori digitali che siete stati gettati in prima linea dall'esigenza di dover mettere in campo, creare una didattica digitale? Nel nostro istituto da anni quasi tutti utilizziamo la tecnologia digitale, effettivamente questa non è mai stata utilizzata in modo così intensivo a livello didattico, chi utilizzava già non ha avuto problemi, non è stato così facile farla adottare a questo punto tutti, quindi non era semplicemente un problema di tecnologia, è un problema proprio di organizzazione, questo pensando e ragionando anche sul fatto che i ragazzi erano in un contesto casalingo, con tutta la famiglia a casa e tu entri nelle case delle persone, a casa tua i tuoi studenti, i tuoi colleghi non entrano fisicamente a casa ma sei nel tuo ufficio, nella tua stanza, con la mamma che arriva o il fratellino, sono tutte situazioni che effettivamente abbiamo vissuto e che sono particolari, attraverso il sistema di videoconferenze la possibilità comunque di interazione è servita tanto.